Siamo qui a Napoli con Vilde Blasio, grande tifoso del Napoli. Forza Napoli! Forza Napoli! Siamo fortissimi, siamo i numeri uno, vero? Certamente! E la pizza napoletana ti piace? Sempre? Anche il migliore del mondo! Lui è un grande amante della pizza napoletana, della tradizionale. Come ti piace a te? Pizza fritta! Pizza fritta mangiato, poi dopo la salsiccia e ferilli. Ovviamente la Margherita con il suo nome, Vilde Blasio, e poi ovviamente non poteva mancare la pizza con lo scudetto, perché lui è un grande tifoso del Napoli. Grazie della tua visita, noi chiamiamo, sei un grande. Forza Napoli! Forza Napoli! Sì, Forza Napoli! Io dico Forza Napoli! E dillo qua! Tu dici sempre! Vai, ok! Il mio tre, uno, due, tre, vai! Forza Napoli! Sempre! Perfetto! Ciao! Ciao! Ciao!